Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale, io sono Fabio. Allora vi racconto un particolare inerente il prossimo video. Sono andato dal mio amico maestro Mauro di Ruscio per comporre dei brani e lui mi fa, ascolta questa registrazione audio di un pezzo che ho fatto. Sono rimasto veramente stupito essere fatto e lo voglio, diciamo, ve lo voglio far sentire, ve lo voglio far sentire perché è una nostra composizione di circa 10-12 anni fa, che io assolutamente non ricordavo, che si chiama Tangone. In pratica lui lo ha registrato con due fisarmoniche, una buon pezzo e l'altra brandoni, sono tutte e due a piano. L'arrangiamento del brano è stato fatto con una Yamaha Genos. Bene, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi lascio all'ascolto del nostro brano Tangone. Iscrivetevi al canale, vi lascio il link qui sotto. A voi il maestro Mauro di Ruscio. Ciao! 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 Ciao!